La storia di una ragazza che a un certo punto della sua vita fa una scelta contro tendenza rispetto ai canoni familiari. Fa delle scelte che la portano a gettare un ponte sull'abisso, su quell'abisso che l'avrebbe sicuramente inghiottita se lei non si fosse determinata a cambiare. L'idea di scrivere questo libro nasce dall'esigenza di offrire un contributo a una terra difficile come la Calabria, un contributo nella ricerca del cambiamento, nella ricerca di lasciarsi alle spalle un'esperienza terribile che riguarda la presenza della criminalità organizzata. Io sono un convinto sostenitore delle teorie di Giovanni Falcone. Giovanni Falcone diceva che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha avuto un inizio e avrà una fine. E io ho cercato di dare un piccolo contributo magari per cercare di accelerare e arrivare alla fine.